È stato presentato questa mattina ai dipendenti il nuovo sito di Acer Piacenza. L'obiettivo del restyling, come ha spiegato il presidente Marco Bergonzi, era quello di ridare comunicazione alla veste grafica, ma soprattutto rilanciare le utilità per gli utenti. Un nuovo logo, messaggi più accessibili, più semplici, meglio raggiungibili per far comprendere che i servizi di Acer sono a disposizione dei cittadini e di tutta la comunità piacentina. Gli inquilini avranno la possibilità di scaricare la modulistica necessaria per il cambio di alloggio o per la consegna delle chiavi e i comuni che ne hanno affidato alla gestione ad Acer, come Bettola, Borgonovo, Casta e San Giovanni e Sarmato, potranno gestire l'assegnazione degli alloggi. Allo stesso tempo, i cittadini interessati potranno verificare la presenza o meno dei requisiti per partecipare al bando di assegnazione, conoscere i termini del contratto di locazione, il regolamento d'uso degli alloggi e verificare dove si trovano appartamenti liberi. Per tutti i cittadini e non solo gli inquilini, la possibilità di verificare la disponibilità di box in affitto. Nel segno della trasparenza, poi, oltre ai bilanci degli ultimi anni, sul sito si potranno vedere incarichi e compensi degli amministratori. E poi le classiche informazioni utili, con gli orari degli uffici e la possibilità di pagare online le bollette. Il sito è un primo step verso un progetto più articolato per integrare i sistemi gestionali di Piacenza, Parma e Reggio Emilia e per dare la possibilità agli inquilini di vedere la propria situazione aggiornata e le bollette.